Storico rilevamento effettuato dalla rover americano Curiosity sulla superficie di Marte. Gli strumenti a bordo hanno infatti rilevato nell'atmosfera del pianeta rosso un improvviso ed esponenziale picco di metano, un idrocarburo di natura biologica, oltre ad aver identificato varie molecole organiche in un campione prelevato dall'interno di una roccia. Questi materiali potrebbero essersi formati su Marte come potrebbero essere stati portati da meteoriti. Le molecole organiche che contengono carbonio e solitamente anche idrogeno sono in attoncini da costruzione alla base della vita stessa. Non ci resta che domandarci che cosa ora il piccolo rover scoprirà nei prossimi mesi. Grazie a tutti.